Musica Sono iniziati lo scorso 3 luglio e termineranno il prossimo 11 settembre le attività del campo operativo gemellato di protezione civile di Iaco tenente finalizzati al monitoraggio e alla sorveglianza del territorio del Gargano per la prevenzione degli incendi e la tutela del patrimonio naturale e umano Il gemellaggio 2014 coinvolge i volontari di protezione civile delle regioni Puglia, Mila Romagna, Veneto insieme al Corpo del Piemonte e all'Associazione Nazionale Alpini Ogni settimana sono operative 14 squadre di volontari che pattugliano l'area garganica seguendo i percorsi predefiniti e muniti di modulo antincendio Il campo base è ospitato dal distaccamento aeronatico di Iaco tenente al presso la foresta Umbra dove sono attivate la sala operativa, la segreteria e la menza e nel quale sono impegnati giornalmente circa 60 volontari Le attività del campo e delle squadre di volontari che pattugliano il territorio sono coordinate dai funzionari della regione Puglia presenti nella sala operativa del campo base in continuo contatto con i funzionari presenti del SOAP di Bari Dopo inseguimento anche in elicottero i carabinieri arrestano tre uomini per coltivazione di marijuana Si è trattato di un'operazione a sorpresa che ha visto impegnato anche un elicottero quella che ha permesso ai carabinieri di trarre in arresto in fraganza di reato tre uomini tra i 40 e i 60 anni che avevano allestito una piantagione di marijuana e circa 4.000 metri quadri in località Giardino ai confini tra Zaponeta e Cerignola Proprio grazie alla presenza dell'elicottero infatti è stato possibile sventare il concitato tentativo di fuga dei malviventi che alla vista dell'aeromobile dei carabinieri avevano tentato di allontanarsi in auto dalla piantagione ben nascosta nella fitta vegetazione mediterranea Con un inseguimento dall'alto però le forze dell'ordine sono riuscite tempestivamente a precludere ai malviventi ogni possibilità di fuga sventando i piani di questa organizzazione illecita che aveva allestito all'interno della piantagione un'attrezzatissima aria per la coltivazione, essiccazione e stoccaggio di marijuana con l'aggramante dell'ingente quantitativo Dalle prime valutazioni degli inquirenti infatti la produzione stimata era di circa 220.000 dosi quantitativo che avrebbe fruttato sul mercato degli stupefacenti circa 400.000 euro Mattinata a venerdì 11 luglio nel giorno della festa liturgica di San Benedetto Abate il patrono dell'Europa avrà luogo il 31esimo pelegnaio escursionistico dell'Abbazia Benedettina Santissima Trinità di Montesacro a mattinata Don Francesco Latorre, coadjuvato dal priore dell'Abbazia di San Leonardo e nell'amma volare a padre Ciro della comunità dei ricostruttori nella preghiera celebrerà la messa mentre il monaco di Pulsano Pietro Distante animerà i momenti di riflessione con la collaborazione del gruppo Agesci di mattinata a mattinata Don Francesco Latorre